Parte con il piede giusto il nuovo anno in casa Biceglie, settima vittoria consecutiva, la decima complessiva nelle ultime 11 uscite. Più sofferto di quel che il risultato dica, lo 0-3 di Gravina contro la pericolante Nuova Spinazzola. L'Useuro indirizza, la perla di Morisco e il sigillo di Stefanini archiviano la pratica. Missione compiuta dunque per gli uomini di Dimeo. Sono 37 i punti in classifica, tutto invariato alle spalle della capolista, con unione calcio e molfette entrambe vittoriose. La difesa del primato parte con qualche problema di formazione per Dimeo. Più grave del previsto è il fastidio per Pignataro, solo febbre ma niente trasferta per Mangialardi e Farucci. Formazione quasi obbligata con Marinelli Terzino, Petitti, Cuamè, Stefanini, Regia, Bonicelli, Diritto e Conè a chiude il 4-2-3-1. Al centro, L'Useuro vince nuovamente il ballottaggio con Rodriguez. Tra le regine del mercato di Cembrino, la nuova Spinazzola sogna una seconda parte di stagione da protagonista. In odore di scherzetto, gli ex Zaldu e Bonanno. Perez incaricato invece di dar fantasia alla squadra, guidata da Luigi Di Simone. In campo, l'ex Molfetta Romeo. Dalla panchina, l'ultimo arrivato lo pianizze. Tattica allo stato pure in avvio. Le dure condizioni del manto del vicino non danno l'accelerata necessaria alla circolazione della palla. In questi frangenti, determinati diventano i calci piazzati, come quello del ventitresimo. Petitti sfogge alla solita classe. L'Useuro si avvita da fenomeno e la mette il Nils nell'angolino, dove l'Iso non può proprio arrivare. 0-1 Biceglie e primo gol in Erazzurro per il Polacco, sempre più a suo agio nel progetto Erazzurro Stellato. Come detto in apertura, ha molte frecce nel suo arco la nuova Spinazzola. Perez al ventisesimo ha spazio in aria, ma non imprime la giusta forza alla sfera. A cavallo tra i due tempi, Massimo Sforzo dei Murgiani. Colonna apre le danze, ma il suo destro a giro sfiora solo in incrocio. Nel recupero, Zaldu ha fiuto il gol dell'ex, ma non ha fatto i conti con l'istinto di Suma. Poi la successiva traversa è risavana dall'offside. Con lo stesso piglio gladiatorio riemergono dall'ispogliato i ragazzi di Di Simone. Bonanno ha parecchia per Perez che manda alto. Poi l'argentino ha sulla testa il punto dell'1-1, ma non è capace di capitalizzare l'ottimo invito del subentrato Ngon. Meritererebbe forse il pari la nuova Spinazzola. Il Biceglie dimostra di essere grande squadra e saper soffrire. A dare una boccata d'ossigeno è l'uomo che non ti aspetti. Francesco Morisco. Al 65esimo il terzino intercetta, si invola e scaraventa sotto l'incrocio un mancino da stropicciarsi gli occhi. Gol meraviglioso per il classe 2004. Il primo in un anno e mezzo di Biceglie. Lo 0-2 scalfisce le speranze dei Murgiani. Quattro minuti più tardi il secondo assist di giornata di Petitti è scartato da Stefanini per il Tris. Game, set e match, anche senza i gol degli attaccanti. Con E a 10 dal termine, prova a iscriversi al tabellino. Conclusione violenta ma imprecisa. Domenica prossima, obiettivo arriva dalla nuova sosta a quota 40 con il Biceglie atteso dal match interno del Ventura contro il Borgo Rosso Molfetta. Nuova Spinazzola, terz'ultima, è ora obbligata a far punti nello scontro diretto contro il Corato.